I tedeschi di Burghausen parteciperanno alla giostra cavalleresca d'Europa? Il sindaco di Sulmona Fabio Federico e il presidente del Consiglio Comunale Nicola Angelucci mettono in atto un tentativo al fine di chiarire gli equivoci e i dissapori dell'ultimo periodo sfociati dopo la mancata partecipazione della giostra sulmonese alla Burgfest. Federico ed Angelucci hanno rivolto l'invito ufficiale ai tedeschi con una lettera al sindaco di Burghausen Hans Stendel. Prima ancora il sindaco Federico lo aveva fatto attraverso la nostra diretta domenica scorsa andata in onda sul Buche di Sky. Faccio un saluto in diretta se mi è consentito al sindaco di Burghausen Stendel perché lo vorrei, questo che ci sia qualche problema, se ci sente in Eurovisione o non so in che cosa siamo sul satellite, gli dico ufficialmente che lo voglio qui domenica prossima perché siamo gemellati così come col sindaco di Zante e ci teniamo moltissimo perché è una cartolina di Sulmona in Europa e nel mondo e quindi deve essere una manifestazione che non deve avere alcun problema e si deve celebrare. Abbiamo investito molto come amministrazione comunale sia sulla giostra di Sulmona che su quella europea, forse anche troppo rispetto alle nostre casse ma questo dimostra la nostra vicinanza e la nostra attenzione a questa manifestazione. Federico ed Angelucci scrivono al primo cittadino di Burghausen che oggi non è il tempo delle polemiche oggi è il tempo delle giostre dell'Europa e cercano di giustificare l'assenza di Sulmona in terra tedesca al periodo di grande crisi economico-finanziaria con l'euro e lo spread che provocano pericolose divisioni le quali rischiano di vanificare gli anni di un faticoso percorso finalizzato alla vera integrazione politica e non solo monetaria c'è bisogno di stare insieme. L'invito a Sulmona è rivolto al sindaco, alla sua consorte e ai rappresentanti del Consiglio Comunale di Burghausen che lei riterrà opportuno di includere, si legge ancora nella nota, nella delegazione ufficiale. Gli obiettivi sono dunque spegnere sul nascere piccole ed evitabilissime polemiche ma principalmente quello di indirizzare un importante segnale di unità all'Europa che si ritroverà idealmente e tutta a Sulmona quello di ribadire che Sulmona e Burghausen sono città amiche e gemellate e che Italia e Germania si sentono orgogliose delle proprie radici e sono al tempo stesso convinte sostenitrici della necessaria integrazione sociale, culturale ed economica della Casa Comune chiamata Europa In attesa di risolvere il problema Burghausen arriveranno a Sulmona per la giostra europea di domenica prossima le delegazioni di Zante per la Grecia, San Marino, Colchester per il Regno Unito Helsinki per la Finlandia, Milano per l'Italia e Dorasti per la Romania, vincitrice degli ultimi tre pali.